Anche il vice sindaco Giuseppe Fonsati a tenere a battesimo questa squadra, vedere tanti ragazzi giovani così motivati, addirittura già un campione, sono sicuramente bei momenti. Un momento bellissimo, una bellissima iniziativa, ho avuto un grande piacere a partecipare a nome dell'amministrazione per portare i saluti all'amministrazione e manifestare l'apprezzamento dell'amministrazione. Una squadra sportiva che nasce con il nome di Imperia, quindi porterà il nome di Imperia in giro per l'Italia e speriamo magari anche oltre, che è già la prima uscita, ha già un campione italiano, è una grandissima soddisfazione. Poi io, chi mi conosce lo sa, sono appassionato di ciclismo e quindi mi fa ancora più piacere, anche perché rivolgendosi a una squadra che si rivolge ai giovanissimi, ai ragazzi, ha un grandissimo valore educativo e formativo, perché ciclismo vuol dire impegno, vuol dire sacrificio, vuol dire programmazione e quindi l'insegnamento che lo sport può dare può essere molto utile anche nella vita, perché nella vita, come nello sport, senza impegno, senza programmazione, senza fatica, non si ottiene nulla. I ragazzi è bene che lo imparino. Importante per quanto possibile, perché sappiamo bene le difficoltà che riguardano anche le amministrazioni, che l'amministrazione comunale abbia attenzione allo sport in generale e ai giovani soprattutto. Assolutamente, io nel mio brevissimo intervento ho detto che ovviamente c'è tutto sostegno nell'amministrazione, economico ad oggi pari a zero, perché tutti conosciamo la situazione, noi speriamo di uscire presto dalle secche economiche in cui purtroppo versa il Comune di Imperia e quindi poter dare anche un supporto economico a realtà sportive importanti come questa.